Musica Ciao fragoline, nuovo video Allora, prima di tutto scusate per i miei capelli Sembro una pazza, ma dato che li ho lavati ogni volta che io li lavo sembro un leone E vabbè, mi daranno un po' fastidio A parte questo, allora come leggete dal titolo vi faccio vedere i prodotti finiti Praticamente sia bere che mangiare di quello che ho finito Allora, è poco, è poca roba, per cui dato che se li lascio dopo lì per un bel po' Diciamo che poi dopo vanno male, per cui preferisco farvele vedere subito anche se è poca roba Per cui sono pochissimi prodotti che ho finito, diciamo, per mangiare Comunque, fatemi sapere se vi piace questa tipologia Su quello che provo, su quello che mangio O anche le bevande, che così almeno può essere utile per voi Se volete comprarlo, non comprarlo Io vi consiglio, non vi consiglio, diciamo, questo mangiare, eccetera Allora, prima di iniziare questo video Vi ricordo di iscrivervi al canale Attivando la campanellina, così non vi perdete neanche un solo video Lasciarmi un like se vi piace questa tipologia E se volete seguitemi su Instagram, che lì metto praticamente tutto Che qua su YouTube non metto quasi mai Detto questo, iniziamo Allora, vorrei iniziare dalla bevanda Praticamente è un alcolico Dove, quando ho visto sta bottiglia Che c'era scritto fragolino Ho detto no Questa bottiglia è fatta apposta per me E ho letto appunto il nome fragolino Ho detto la voglio provare Allora, questa è una bevanda a base di vino Praticamente sa di succo di fragole Poi c'è scritto vino, zucchero e aromi Questi sono gli ingredienti che c'erano dentro È buono Ovviamente io non sono una che beve così tanto E tanto meno alcolici e robe varie Bevo pochissimo Perché non è che mi piacciono tanto Però dato che ho visto il nome e volevo provarla Sa un po' di fragola È abbastanza buono A me non mi fa così tanto impazzire Per cui questa è l'ultima volta che l'ho comprato Però ne valeva la pena assaggiarlo Specialmente se c'è scritto il mio nome Per quello che io non voglio cambiare il nome del canale Perché è un nome molto carino Che non si vede diciamo in giro O tanto meno sui social Per cui questo è praticamente il vino che ho provato Ovviamente non l'ho bevuto tutto da sola È di 7 volt Questo qua Però se volete provarlo Ve lo consiglio Poi Ho finito I miei biscotti pan di stella Questi qua al cioccolato Crema pan di stella al cioccolato Questi sono stra buoni Però posso dire Che preferisco di più questi Che quelli alla Nutella Infatti C'ho anche quelli alla Nutella Che ho finito Allora io ve li faccio vedere adesso Finiti Ma sinceramente È da più di 5 mesi Che ho ancora Sti pacchetti finiti E mi sono ricordata adesso Di farveli vedere Per quello che dico Appunto Che queste cose sono poche Perché mi sono dimenticata Di farveli vedere Più passa il tempo Poi dopo Mi restano lì Per cui Io vi consiglio di più I pan di stella Che in Nutella Però calcolate Che io li mangio Una volta Ogni morte di papa In poche parole Perché uno costano 3 euro E costa abbastanza parecchio Tutte e due E poi Non fanno tanto bene A mangiarli Tutti i giorni O specialmente Cioè una volta al mese Ci sta Però Sinceramente Neanche una volta al mese Io li compro Per cui li compro Solo se Ho voglia Di mangiarli Sono tutte e due ottimi Ve li consiglio Tutte e due Questi qua Al Nutella Non so male Sono buonissimi E Appunto Mi piacciono di più Questi qua Anche se Ce ne sono 6 Di pacchetti dentro E questi sono di più Perché sono 304 grammi Però Vi assicuro Che tutte e due Sono stra buoni Per cui Ve li consiglio Prendeteli Anche se L'ho detto 300.000 volte Però giuro Che questa è l'ultima volta Che lo dico E E niente Poi Ho preso Alla Lidl Tanti mesi fa Che non mi ricordo Quanti mesi 6 scatole Di cereali Che erano in promozione Così piccolini Non so se ci sono ancora Perché c'era la promozione Di queste scatolette Piccoline Dei cereali Adesso le faccio vedere Uno per uno Le ho provati tutti Perché erano carini Le scatole Eccetera Lo volevo provare tutti Io diciamo che non le ho mangiate Nel latte Ma le ho mangiate così Come se fossero caramelle O patatine Allora I miei preferiti Erano Sia questo Ciocco riso Mi avvicino Così ve li vedete meglio Questi qua Che calcolate Sono 30 grammi Per cui Questo È promosso In senso che Sono buoni Sono i miei preferiti Poi C'è Questo Cereali Cocchi Qualcosa del genere Non so Come si dice Tipo biscotti Però questi qua Non mi sono tanto piaciuti Per cui Non sono Promossi Poi Ci sono I golden puffi Questi qua Facevano schifo Sinceramente Per cui Questi qui Sono Cioè Sono bocciati Non mi piacevano E Fanno proprio schifo Poi Questi Tijer crunch Al caramello E cacao Così Così Non mi hanno tanto colpito Tanto Però calcolate che L'ho presi una volta E non li compro più Anche perché Adesso non mi ricordo Quanto l'ho pagati Ma Diciamo che Comunque Questi qua Così così Però questi Potrei già consigliarveli Meglio Confronto Degli altri Poi C'erano Altri due pacchetti Che ci sono Questi qui Sono stra buoni I ciocco Che Shields Come si dice Non lo so Questi qua Il cioccolato Questi qua Li potete mangiare Normalmente Però Sia Con latte dentro Che sia Normalmente Come patatine Sinceramente Sono buonissime Per cui Queste ve le consiglio Anzi Questi qui Sono di 25 grammi Stranamente Sì Certi Sono di 25 grammi E certi 30 grammi Non so il perché Invece Questo Ancora di più 45 grammi Choco Pillow Qualcosa del genere Questi qui Così così Per cui Gli unici pacchetti Che mi sono piaciuti Sono stati Tre Tre pacchetti Questi qua Non tanto Non mi sono piaciuti tanto Però Calcolate che C'era Un pacchetto Non mi cade tutto Un pacchetto Non riesco a prenderli tutti Ma Con queste sei scatole E Non è che conviene tanto Perché A parte che È poco E poi Credo che il prezzo Era più di 3 euro Più o meno Adesso Non so bene Però Le ho prese la Lidl Per cui Se per caso Li trovate E vi piacciono Provatevi Diciamo che Almeno tre scatolette Mi sono piaciute Tutte le altre Non è che Mi sono più Così piaciute Tanto Per cui Però Dato che Li ho visti Che avevano Una scatolina Piccolina Ed era anche Carino Poi era facile Anche ad aprire Solo che Io l'ho spaccati Come vedete E Vi voglio far vedere Che dentro C'era il sacchettino Così Piccolino C'erano pochi Pochi cereali Però Appunto Io l'ho provati Senza latte Perché Mi piacevano Provarli Senza latte Però Secondo me Se li provate Con latte Sono molto Più buoni Secondo me Comunque Come ho detto Prima È poca roba Perché Appunto Mi sono dimenticata Di farvele vedere Sono tanti mesi Che ce li ho Nel sacchetto In questo sacchetto qua Erano tanti mesi Che ce li avevo dentro Per cui Per meno male Che adesso Li butto Perché Adesso fanno una puzza A parte che Questa l'ho lavata Però Adesso Per fortuna Meno male Che adesso Li lavo Cioè Li lavo Li butto Sto già sclerando Non so più Cosa sto dicendo Vabbè Dopo le mie solite Cose A cavolo Erano pochissime cose Però Se vi piace Questa tipologia Di video Fatemelo sapere Qui sotto Vabbè Detto questo Anche se era poca roba Spero Lo stesso Che vi sono piaciute Queste cose Fatemi sapere se voi avete provato A mangiare A bere Queste cose Che vi ho mostrato Detto questo Lasciatemi un like Così almeno so Se fare ancora Questa tipologia di video Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Seguitemi su Instagram E detto questo Che ho ripetuto Sempre le stesse cose Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao